Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio, con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. La tendenza meteo per il fine settimana di Capodanno conferma un'espansione più decisa dell'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria eccezionalmente mite. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura a tratti fitte e persistenti per tutta la giornata. Sulle zone montane e pedemontane maggiori schiarite. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 9 e gli 11 gradi, all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso, con foschie e possibili nebbie. Sulle Alpi sarà un po' meno coperto, con la comparsa di alcune schiarite. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà diversa. Le nubi si dissolveranno in mattinata, lasciando spazio, come vediamo, al sole. Temperature minime intorno a 2-4 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio, con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Grazie per la visione. FHiLi